Buongiorno a tutti, oggi vi presenterò una nuova gamma di avvolgitubo che abbiamo nel nostro sito. L'avvolgitubo per noi è un prodotto molto interessante, infatti da diversi anni trattiamo questo articolo già con il marchio Maestri, quindi il nostro marchio storico per prodotti da officina. Da qualche tempo abbiamo inserito anche un nuovo marchio che è Maclube quindi sempre un marchio di produzione italiana di altissima qualità. Come potete vedere anche dal nostro catalogo abbiamo veramente una vasta gamma di avvolgitubo, questi si dividono innanzitutto per materiale in cui sono stati costruiti. Abbiamo avvolgitubo in acciaio inox, in acciaio verniciato ma anche in materiale plastico. Ovviamente la scelta dell'avvolgitubo che serve per le vostre esigenze deve essere fatta soprattutto pensando ai prodotti che poi andrete ad erogare attraverso il tubo. Ad esempio appunto se dovete utilizzarli per spostare dell'acqua sicuramente sarà molto più indicato acquistare un avvolgitubo in acciaio inox. Oltre ai materiali c'è la possibilità di scegliere anche fra avvolgitubi orientabili oppure fissi e anche automatici oppure manuali. Se avete già il tubo quindi se avete già il materiale da mettere nell'avvolgitubo è possibile acquistare un avvolgitubo nudo. Al contrario se invece volete un avvolgitubo completo li abbiamo anche completi di tubo. Ovviamente anche qui dovrete fare la scelta in base al materiale che andate a trattare. Infatti ci sono avvolgitubo con tubi per aria e anche acqua anche sopra i 100 gradi per olio antigelo ed affini per grasso per liquido lavavetri e anche ad blu oppure per gasolio e benzine. Anche per quanto riguarda le misure dei tubi abbiamo una potete scegliere fra diversi modelli. Ovviamente ci sono tubi dal 5 sedicesimi poi ci si sposta anche al 3 ottavi il tubo da mezzo quindi e qui ovviamente cambiano anche le capacità di portata di questo avvolgitubo quindi ci saranno avvolgitubo che possono portare in base alle dimensioni del tubo 15 metri 20 metri 25 metri e così via. Ovviamente avendo degli avvolgitubo per il trasporto di benzine e di gasolio il tubo che viene dato in dotazione è un tubo altamente professionale proprio per le benzine quindi a norma di legge ma anche ci sono avvolgitubo che la serie pesante quindi potrete trovare anche la serie pesante proprio per questa tipologia di prodotti. Sempre nella stessa sezione trovate anche gli avvolgitubo industriali motorizzati creati proprio per essere applicati anche in punti in lavori dove richiedono la solidità quindi ad esempio all'interno di un furgone. Ecco a completare tutta la gamma di avvolgitubo appunto trovate anche questi che sono molto più insomma professionali e per tubi di veramente grandi dimensioni. Per qualsiasi altra informazione clicca nel link in descrizione. Ti ricordo inoltre di iscriverti al nostro canale youtube e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Seguici anche nei nostri canali social e se questo video ti è piaciuto metti un bel like. Grazie a tutti.